Oggi, sabato 17 giugno, in Mazzara del Vallo si costituisce la sede territoriale dell'Ancri, l'Ancri che è l'Associazione Nazionale dei Cavalieri della Repubblica Italiana. Grazie all'opera fattiva del Cavaliere Ventura, del Cavaliere Rondi e del Presidente della sede territoriale di Palermo, Matteo Neri, appunto in Mazzara, creiamo questa associazione, l'Associazione che è una associazione senza scopo di lucro, ha quale motto parati sumus itererare, siamo pronti a ripetere, cioè siamo sempre pronti e disponibili nei confronti della cittadinanza, nei confronti dei bisognosi, nei confronti delle persone che socialmente sono in difficoltà a dare la nostra opera di volontariato. Io sono il Cavaliere Matteo Neri, Presidente della Sessione Nazionale Cavalieri del Merito della Repubblica, Sessione Territoriale di Palermo, di cui al momento fanno parte i Cavalieri di Mazzara del Vallo. Con questo congresso che si sta istituendo tra pochi minuti, Mazzara del Vallo diventerà Sessione Territoriale di Mazzara del Vallo e quindi si staccherà da Palermo. Già la Sessione di Mazzara del Vallo conta 21 insegniti all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Noi a Palermo abbiamo circa 90 cavalieri, spero che Mazzara del Vallo ci possa eguagliare al più presto. In Sicilia saremo un 300 all'incirca. Come sedi abbiamo istituito Palermo e Catania, adesso la terza sezione istituita è Mazzara del Vallo. A seguire ci sarà la sezione di Gela, la sezione di Messina e la sezione di Agrigento, che gran parte, Agrigento e Mazzara del Vallo e Enna fanno parte ancora di Palermo, ma man mano sono costone padermitane che si stanno staccando e diventano autonome. Tutti gli iscritti della provincia di Trapani si possono iscrivere su Mazzara del Vallo. Cercheremo dopo la costituzione di questa sezione a Mazzara del Vallo di creare un gruppo di lavoro per quanto attiene la formazione a livello universitario e a livello di scuole superiore. Già mi prefiggo un compito di interessare qualcuno per riuscire a fare qualcosa sull'antiterrorismo che in questi tempi è molto attuale. A me compete la convocazione delle assemblee che si vanno costituendo. Oggi ho convocato l'assemblea costituente di Mazzara del Vallo, ho già provveduto a convocare l'assemblea costituente per Gela per il giorno 22 giugno e ho convocato anche l'assemblea costituente di Messina per il giorno 9 luglio. Siamo in procinto anche di convocare quella di Agrigento e Enna, quanto prima. Sono delle sezioni, due sono quella di Mazzara del Vallo e Agrigento, come ha già detto il collega, si staccano dalla sezione territoriale di Palermo, cui in atto appartengono. Mentre quelle di Messina e di Enna e di Gela si staccheranno dalla sezione di Catania, che già è costituita. Noi contiamo circa 300 iscritti in tutta la Sicilia, io tra l'altro sono uno dei fondatori dell'Ancri in Sicilia, perché sono stato uno dei primi delegati in Sicilia ed ho fatto l'assemblea costituente per la Sicilia presso il castello della Baronessa di Carini. Quindi noi speriamo di renderci utili nella società e di essere utili soprattutto nel sociale. L'Ancri costituisce un punto fondamentale, in quanto luogo di incontro e scambio culturale dei soci. Noi cavalieri ci ispiriamo attraverso l'impegno nel sociale. Ognuno di noi è portato ad assolvere una missione. L'importante è metterla in atto nel rispetto di se stessi e dell'altro.